dato io se volete iniziare il video vado ho qualcuno voglio dipendere su mv3 che che ha le carte nemesis poi nemef casino nemesis metti di qua così ci vedi proprio che salpiamo metti di qua user left channel ahahah vabbè ne basta basta andiamo a fare un altro video andiamo a fare un altro video a presto a presto a presto